il massimo numero 284 della classifica WTA in un'intervista di questi giorni Nava ha detto mia mamma è stata top 200 non ricorda benissimo però insomma sono dettagli mentre sicuramente ha partecipato alle Olimpiadi mamma mia che bravo qua mi devo interrompere perché arriva un gran rovescio lungolina di Musetti eeeh eeeh i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente muovendolo con le diagonali perché a questo punto vediamo l'americano che ha appena la possibilità. Questo è un punto che fa... Lo scherza addirittura. Molto bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.